E adesso c'è un omaggio, un omaggio a lui, a Guido Elmi. Eccolo qui Guido, ho avuto la fortuna di essere amico, di fare tante cose insieme. Lui registrava Toffi in sala, io facevo il video di Toffi a casa di Guido insieme a Vasco. Questi straordinari artisti faranno un omaggio a Guido Elmi, Maurizio Soglieri, Enrico Iportera, Vittorio Gormisiero. Ciao Guido. Grazie. Toca, 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 toca. Toca, 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 toca. Grazie. 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 Sì già nemmeno Grazie a tutti 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 Grazie a tutti